e quindi alla fine non importa tanto qual è il partito al potere perché loro sono sempre al potere e questa è la ragione per cui non cambia neanche e naturalmente in Italia abbiamo un esempio fantastico di questo tipo di manipolazione da tanti punti di vista non ultimo per il lavoro fatto dalla loggia masonica P2 tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 è loggia P2 che è stata a stretto contatto con tutte le storie di manipolazione che andavano avanti in Vaticano con signori come dice Gelli e Roberto Calvi e naturalmente quando sono usciti i famosi elenchi della P2 la P2 risultava suddivisa in diversi raggruppamenti di persone e quindi per ciascun gruppo c'era qualcuno che stava a capo e i capi di ciascun gruppamento non avevano idea di chi fosse a capo dei gruppamenti vicini solo personaggi come Gelli e altri che stavano a vertice sapevano chi stava sotto le persone come la CIA, la intelligenza britannica e il Mossad chiamano la comportamentalizzazione o la necessità di sapere solo per le persone sapere cosa che hanno bisogno di sapere per fare la contribuzione che vogliono di fare non è sufficiente per vedere come si fa insieme allora questo fenomeno viene definito dai servizi segreti dall'FBI, dai servizi segreti britannici dal Mossad needs to know fatto sapere alla gente solo quello che devono sapere quindi il minimo è indispensabile per consentire di portare avanti il loro lavoro e quindi nei diversi raggruppamenti c'erano personaggi che poi si sono rivelati importanti ed influenti in the government, in the military, in intelligence, in journalism, etc a livello di governo, di sistema militare, di politica, di giornalismo, media, etc e chi c'è anche a questi elenchi? Silvio Berlusconi Silvio Berlusconi e quindi tutti questi signori Padre Bush George Bush Obama Berlusconi tutti questi signori che apparentemente spuntano fuori all'improvviso sembrano che spuntino fuori all'improvviso perché è quello il momento in cui entrano ufficialmente sulla scena politica ma in realtà vengono portati avanti già molto tempo prima e preparati a dovere per andare qua a ricoprire quel dato in carico perché c'è una ragione ben precisa per cui in tutti i paesi del mondo il sistema politico è organizzato in partiti ma vogliamo davvero credere che su un mondo popolato di 7 miliardi di individui l'unico modo per organizzare la politica è per partiti così stretti non potremmo scegliere una persona per la sua decenza, la sua dignità, la sua integrità invece che andare a votare per i partiti politici cosa che continuano ad accadere ogni giorno in tutti i paesi del mondo un sistema nel quale potremmo benissimo mettere una scimmia a condizione che venga vestita in maniera giusta e verrebbe votata qualcuno potrebbe dire ma è già successo ma la ragione per cui abbiamo tutti questi bei partiti politici è perché la struttura è una piramide quindi se siete pochi e volete controllare i tanti è essenziale avere una condizione la centralizzazione del potere, l'accentramento del potere più il potere decisionale e il potere del governo è accentrato più è facile per i pochi avere potere sui tanti la diversità è il peggior incubo del tiranno e quindi se noi potessimo votare per una persona e scegliere questo creerebbe una diversità sul piano politico ed è l'ultima cosa che vogliono e quindi costruiscono questa struttura che chiamano partito e che è una piramide quindi se vuoi fare il politico, vuoi andare in Parlamento se vuoi avere una qualche possibilità, una qualche speranza di essere eletto e quindi dovrai essere scelto da un partito per poterti candidare a nome di quel partito per un'elezione e per far questo bisogna in qualche modo accontentare il partito in maniera da poter essere scelto e questo vuol dire che dovrai dire quello che loro vogliono che tu dica e esprimere quello che loro vogliono che tu esprima e quindi va bene alla fine del governo ma se vuoi fare carriera nel partito e alla fine diventare un membro del governo dovrai sforzarti per tutta la durata della tua carriera politica di accontentare quelli che stanno ai vertici del partito a cui appartieni e quindi non verrai mai scelto per fare carriera nel partito se i vertici pensano che in qualche modo pianti grame e piantare grame per loro vuol dire avere un tuo modo di pensare e avere voglia di esprimere i tuoi pensieri e in questo modo tutte le grandi organizzazioni internazionali, multinazionali, mass media, organizzazioni politiche sono tutte costruite secondo il modello della piramide e quindi è sufficiente controllare la vetta, la punta di quella piramide per poter controllare la cascata e tutto il resto della piramide e quindi in questo modo potendo controllare tutti i livelli successivi della piramide è facile controllare chi sta in questo partito e anche chi sta in quell'altro partito e decidere alla fine quali saranno gli esiti che si vogliono raggiungere perché se c'è una situazione dove ci sono due partiti che hanno entrambi la possibilità di prendere il potere al governo basta accertarsi che il partito che questa volta non si vuole perché è quell'altro che vogliamo si trovi un leader che viene considerato ineleggibile o che viene messo alla berlina per via di scandali o altre storie del genere e quindi alla fine si costruisce un sistema per cui anche se non si vuole, anche se non ci piace votiamo per quelli perché quell'altro è peggio e quindi per esempio questa è l'ultimissima cosa prima delle domande e quindi quando c'è un signore giovane e anche un po' carismatico non troppo carismatico ma un po' soprattutto che si impappina quando il gobbo si blocca ma c'è comunque questo signore insomma che se la tira un po' così da figo e vogliamo che venga letto lui naturalmente dal partito opposto non si consentirà che ci sia un'altra persona altrettanto giovane e ai tante che possa in qualche modo rappresentare una minaccia quindi questa è la manipolazione della scelta che ci fa illudere di poter in qualche modo cambiare la realtà e fare la differenza e dobbiamo essere convinti che il nostro voto ha un suo rilevo, una sua importanza ma se noi esprimiamo costantemente un voto per una maschera che sta sulla faccia il nostro voto non conta niente ed è proprio domande